Capita spesso, specialmente in questo periodo particolare in cui trascorriamo molto più tempo in casa e la nostra vita è molto più sedentaria, di guardarci allo specchio e notare che nel nostro corpo qualcosa si è cambiato. Magari ci vediamo più gonfi, meno tonici, più trasandati. Ma con questi 5 hacks per dimagrire velocemente ti aiuterò a ritornare in forma come prima, senza impazzire e soprattutto in modo sano. Il primo trucchetto che ti consiglio è quello di mantenerti molto più attivo. Lo so che siamo in casa, lo so che non c'è molto da fare, ma cerca di fare delle camminate al mattino appena ti svegli. Io nel mio caso ho preso un tapirulan e sto facendo 40 minuti di camminata ogni giorno appena mi sveglio. Mi alzo, bevo un caffè, do uno sguardo al mio Instagram. Spesso utilizzo anche il tapirulan anche semplicemente per rispondere a un po' di commenti, messaggiare con voi, tutte quelle cose che solitamente potrei fare sia da seduto che camminando senza sforzarmi troppo. E soprattutto questa cosa mi aiuta anche proprio a svegliarmi molto più velocemente perché solitamente salgo tutta più l'ora anche se sono ancora mezzo addormentato e invece quando scendo sono già bello sveglio, pimpante e mi dà veramente una carica per iniziare le giornate pazzesca. Se abiti in un palazzo scegli le scale all'ascensore, quindi cerca di farti i piani a piedi, ma in generale ti consiglio di camminare il più possibile. Se sei in casa, hai delle chiamate, invece che stare seduto e parlare, alzati e cammina per casa. E soprattutto ricordati che è molto più efficace mantenersi un po' in movimento nel corso della giornata con queste piccole cose che magari non fare nulla in tutta la giornata, stare seduti su una scrivania e poi magari fare soltanto un'ora di allenamento nella quale cerchi di dare tutto te stesso però poi magari il resto del giorno sei fermo. Sono tutti questi piccoli accorgimenti che però a fine giornata fanno veramente la differenza. Secondo trucchetto che ti do, bevi molta più acqua. Bere molta più acqua non solo ti aiuterà in generale perché il nostro corpo ha bisogno di bere acqua ma ti costringerà ad andare in bagno più spesso e quindi ti alzerai e camminerai di più e quindi ti manterrai anche molto più attivo. Quindi mi raccomando, io per esempio bevo un grosso bicchiere d'acqua prima di ogni pasto e ho cambiato i bicchieri di casa mia con questi bicchieri molto più grandi nei quali ci entra molta più acqua e altro consiglio che ti do è quello di tenerti una borraccia d'acqua vicino a una scrivania così ogni volta che lavori al pc hai l'acqua lì a porata di mano e berrai sicuramente molto di più. Terzo consiglio, mangia molte più fibre perché le fibre non vengono assimilate dal nostro organismo e quindi ci sazzano più a lungo perché appunto il nostro corpo non riesce a digerirle. Quindi cerca di scegliere alimenti che siano per lo più integrali. Pasta integrale, pane integrale, se devi mangiare dei derivati del grano cerca che siano integrali. Mangia dei cereali, semi, i semi di chia sono buonissimi ma in generale tutti quanti i semi vanno benissimo. Altra cosa ovviamente importantissima e quarto trucchetto che ti do è quello di fare più sport. Ma quando dico fare sport intendo veramente qualsiasi sport, qualsiasi cosa che ti dia gioia e che ti faccia mantenere attivo. Su YouTube è pieno di allenamenti, anche sul mio canale ne puoi trovare. Se vuoi ballare a Just Dance per un'ora, balla a Just Dance per un'ora. Se invece vuoi fare uno dei miei allenamenti, di recente ho caricato un video allenamento per principianti, perfetto per chi magari vuole iniziare ora, e ne caricherò molti più altri. Quindi magari fatemi sapere nei commenti che tipo di video vorreste vedere sul mio canale. Ma davvero non avete scuse perché su YouTube potete trovare tutti gli allenamenti che volete. Non vi fermate agli allenamenti che non vi piacciono, ma cercate proprio l'allenamento che vi rende felici. Perché anche questo deve essere un momento per voi e un momento che vi godete nella vostra giornata. Quinto e ultimo trucchetto, questo ti piacerà perché ti consiglio di dormire. Dormi perché il sonno è importantissimo sia per abbassare i livelli di cortisolo che l'ormone dello stress, sia per mantenere l'equilibrio del nostro corpo, specialmente in questo periodo di stress. Perché ogni volta che comunque cerchiamo di dimagrire, il nostro corpo entra un po' in uno stato di stress. Io da amante del caffè quale sono, ho deciso di sostituire i caffè che prendo dopo la mattina, quindi solitamente quelli che prendo dopo pranzo, solitamente ne prendo solo uno, con caffè decaffeinato per evitare appunto che la caffeina potesse alterarmi o modificarmi la qualità del sonno. E come sapete utilizzo queste cialde riutilizzabili che sono fantastiche perché all'interno ci puoi mettere il caffè che vuoi. Queste qua le ho prese su Amazon. E se per caso anche tu sei una persona amante del caffè che beve tanti caffè al giorno, prova a sostituire tutti i caffè dopo il primo con del caffè decaffeinato. Ma se come me fa fatica a dormire, io ultimamente sto provando questa tisana con camomilla e melatonina, che veramente mi ha fatto una grandissima differenza, ogni volta che la prendo dopo 20 minuti sto già dormendo. La si può trovare facilmente al supermercato, quindi veramente fa la differenza. La bevo poco prima di andare a letto e mi stende dopo 20 minuti. Ecco, questi erano i miei 5 hacks per dimagrire velocemente e spero che possano aiutarti. Io spero che questo video ti sia piaciuto, se è stato così lascia un bel like e iscriviti al canale. Magari alcuni potranno sembrarti un po' scontati, ma fidati che funzionano. Perché alla fine ricordati che sono le piccole cose che facciamo quotidianamente a cambiare veramente le cose. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!